Gli ultimi anni dell'Ottocento sono caratterizzati in arte dai movimenti post-impressionisti. Il puntinismo o divisionismo è uno di questi. Se nell'impressionismo, infatti, i colori si stendevano con piccole macchie, qui si arriva a dare il colore punto per punto, come le microscopiche tessere di un mosaico. I colori usati sono il giallo, il rosso e il blu, più i complementari, che non vengono mai mischiati tra loro. Sarà poi l'occhio, come avevano anche dimostrato alcuni studi scientifici, a unirli insieme, ricreando l'immagine. Ad aderire al divisionismo ci furono anche Paul Signac, Edmond Cross e per un certo periodo anche Camille Pissarro. Sono invece sempre di Seurat i quadri Il circo e la parata del circo, la Tour Eiffel e i bagnanti ad Asnier.